E quindi, più che mai, accuggiamo e cerchiamo di far sapere a tutti che posti come Tartuto, dove c'è l'Italzinger che da anni, purtroppo, fa sentire i suoi effetti negativi sulla popolazione, su Pridys, dove incredibilmente ancora in Italia abbiamo una centrale, che è poco, che esistevano fino a 3-40 anni fa, nei posti ministerializzati. E lui si è fatto promotore presso l'Anci, presso il Presidente della Regione, e l'ho presente anch'io l'ultima volta quando ci ha parlato, e gliel'ho ricordato al Presidente della Regione, proprio qualche giorno fa gliel'ho incontrato, l'ho detto, il Presidente Saluti, da Nicola Conenna, che vi ricordiamo sempre quanto è importante per muoversi su tanto, per mettere un nuovo generatore per l'antiforme, che dovrebbe essere proprio la produzione dell'antiforme. Niente, il problema politico è che questa Italia, questa entità, non meglio da noi, ancora ben identificata, nel 250 anni, firma i frattati, ma poi non mantiene fede a quello che firma. Cioè, qui stiamo parlando di una cosa stavente importante. Quando lui mi dice che l'esperto del governo dell'energia è un tipo significante, che forse non ha mai sentito di parlare dell'energia e dell'idrogeno, a me viene un po' da pensare. Sì, certo, questa è la politica, adesso c'è un governo che ha fatto un patto, da di loro, vanno avanti perché devono rispettare solo quello che hanno messo nel caledario e questo di energia, questo governo, proprio credo che non le farà mai di queste cose. Quindi, giustamente...